ciao a tutti io sono michela e io sono fabio d'ora in poi in questo nostro canale abbiamo intenzione di lanciare questa striscia di un minuto che si chiamereà one minute fitness dove affronteremo vari argomenti legati al nostro mondo che è il mondo del fitness del benessere e tutto quello che gravita intorno allo star bene quindi in pratica daremo brevi consigli sugli esercizi da eseguire e cercheremo di risolvere quelle che noi definiamo le leggende metropolitane che gravitano intorno al mondo del fitness e vi assicuriamo che ce ne sono davvero davvero tantissime sia per quanto riguarda le tecniche d'allenamento sia per quello che riguarda il discorso alimentazione certo cercheremo di dare anche qualche dritta dal punto di vista alimentare sfatare qualche mito e qualche leggenda metropolitana come diceva fabio per nella speranza di essere utile il più possibile a un'utenza speriamo molto numerosa relativamente alla possibilità di mettersi in forma tornare in forma rimanere in forma e curare il proprio di essere proprio uno stile di vita migliore e riuscire tutto sommato a stare meglio ecco speriamo di fare un bel lavoro e speriamo che agli utenti di youtube le persone che ci seguono questo questa idea piaccia ci saprete seguiteci 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 un sacco ciao 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 ciao